5 curiosità su Loba Il padre di Loba la chiama Greta nei sottotitoli ufficiali iniziali del trailer di lancio della quarta stagione E' stato successivamente corretto in bebè, ovvero bambino in portoghese Il trucco di Loba ricorda le macchie di sangue che erano sui suoi occhi quando suo padre è stato ucciso Loba non ama i robot a causa della sua esperienza di infanzia con Revenant Può in qualche modo tollerare Pathfinder e gli ha spiegato anche il motivo per il quale non ama i robot E' fortemente implicito che fosse attratta da Bangalore poiché spesso flertava, le chiedeva di uscire a cena e si riferiva a lei come una bella signora Viene però frenzonata da Bangalore dicendole che è solo un'amica A causa dell'insistenza di Valkyrie però i due iniziano a flertare apertamente e a quanto pare sono state fuori in diverse date Loba significa lupa in portoghese e spagnolo così come lo slang per donna attraente Iscriviti al canale per altre curiosità e fammi sapere su quale altra leggenda vorreste le 5 curiosità e noi ci vediamo direttamente ad un prossimo video